Pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, un nuovo bando dedicato all'impiantistica sportiva. Lo fa sapere la Regione. Tra gli obiettivi ci sono interventi di messa a norma, recupero funzionale, manutenzione straordinaria, nonché finalizzati alla creazione di nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a particolare vocazione. Il bando va proprio a supportare le varie esigenze del patrimonio impiantistico, sostenendo interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, di efficientamento energetico, di manutenzione straordinaria degli impianti di proprietà di enti pubblici, di completamento per la messa in funzione dell'impianto stesso. Inoltre saranno ammissibili le opere di abbattimento delle barriere architettoniche per permettere la fruibilità delle strutture da parte di soggetti con disabilità. Oltre a sostenere l'esistente, spiega la Regione, il bando andrà a contribuire a interventi di realizzazione e potenziamento di impianti medio-piccoli, preferibilmente polifunzionali, per favorire la pratica sportiva in zone con grave carenze impiantistiche o a particolare vocazione. Un atto importante, ha affermato l'assessore regionale allo sporto Giovanni Maria Ferraris, a sostegno del sistema sportivo piemontese e alla sua capacità di diffusione della pratica sportiva. Ai sensi del piano annuale 2018 potranno accedere ai contributi enti, organismi pubblici e organizzazioni riconosciute dal CONI, ovvero federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dialettantistiche. La scadenza per la presentazione delle domande è l'8 ottobre 2018.